è notte e sono stanchissimo ho dormito poco e devo andare a prendere Marco sono le 5 e mezza e tra poco abbiamo il treno salve buongiorno siamo in autostrada potete vedere buissimo un palmo di naso un palmo di schioppo di naso c'è anche la fede vediamo accettiamo anche la luce noi vediamo questa ora sembra uno zombie ah finalmente una ripresa luminosa in decennia non basta bacia ragazzoli siamo partiti e nulla ci vorrà un po di tempo ma Marco mi sta facendo vedere la sua partita sul rainbow in questo momento vediamoci questa partita devo dire che la partita di Marco era eccezionale ragazzi sono le 7 e 10 e tutto va malissimo perché ci aspettano ancora ecco oltre tre ore di viaggio Marco con la sua felpa di assassin creed fa la nanna adesso ne penso anche io ci siamo svegliati dopo abbiamo dormito una retta io con la bocca aperta tutto il tempo io ero morto con la bocca aperta Marco ovviamente sta facendo una cosa diversa dal solito sta giocando tanto per cambiare a pokemon 2 in treno fino ad ora correva tipo su un tapirulano cioè correva da fermo siamo in mezzo alle praterie sconfinate quelle di quella regione lì siamo scesi dal treno siamo alla stazione centrale di milano ci sono ancora cocco della nostra menście ci siamo av 거기ando Luca Mauro Mauro Luca Luca ma questo braccialetto di Clasher è quello di Maverick non l'hai visto Ma li avete fatti voi Ma vanno inviati Prendi di merda Prendi di merda Mi stava cadendo il telefono da mano Prima Mentre Mauro mi ha abbracciato Lì ci sono Marco e Aluc Che se ne vanno a fare robe E là sono rimasti Mauro e Tec Aspettate Andiamo a vedere che stiamo facendo Dobbiamo prendere il taxi Perché siamo in leggero ritardo No ma aspetta Almeno fammi dire Io ti inquadro mentre vlog Mentre vloggate Guardate come sono professionali Io col telefono Sono povero Sono povero Guardate un po' Tu sei qua con me Guardate Yeah Eh l'altro è andato a imboscarsi con Aluc Oggi per pigliarvi Gli altri abbiamo qui davanti Gli altri ancora Poi li raggiungeremo Faticamente Né in questo posto segreto Che non ancora non si può nominare E appunto Abbiamo infatti qui il resto Della ciurma Signore e signori Marco Marco mi ha tradito e sta salendo in un altro taxi Con Aluc e Tecnoid Io sono un buon Gustavo che salvo con loro Siamo arrivati nel posto magico Non so dove siano Tec e Ale E il mio buon Marco che ci ha abbandonati Ma lì lo vedete Questo è il logo di Ubi Anche se al contrario questa porta fa specchio E ora entriamo Siamo da Ubisoft E c'è un po' di gente Qua di spalle vedete il capitano degli end Mastro Toro Continuare la parte del vlog Tec fa finta di parlare Qua c'è il bello Mazzic che mangia La posta di salato Molto bello Eddie di spalle Eddie di faccia Mauro Stiamo mangiocchiando qualcosa C'è il solito look qua Il buon Dragon Lee Ragazzoni abbiamo provato l'operazione Abbiamo provato i nuovi operatori Lì c'è il mio amico Mario Rabbit No, matto Qui c'è un simpaticissimo Tec C'è anche Ezio C'è anche Ezio Prima non l'avete visto Lì c'è sempre Eddie E c'è Mastro Vista Ciao ragazzi Ti riguarda un fare di disappunto Siamo in metro Mi dispiace non aver fatto troppe riprese da Ubisoft Ma abbiamo giocato tutto il tempo Lì c'è Draven che scappa Mi sto lasciando al vostro vlog No, no, mi Draven Ma chi è il tuo gioielliero? Ancora Ora prendiamo la metro Andiamo in stazione centrale E sì Come avete potuto immaginare già Torniamo a casa Torniamo a casa Facciamo tutto in una giornata Eh sì Quindi si ritorna a casa Mal di testa assurda Mamma un mal di testa assurda Però abbiamo provato Abbiamo provato una nuova operazione Niente Non mi può parlare Abbiamo provato una nuova operazione Abbiamo provato Cahid Cahid Non lo so dire Abbiamo provato una nuova operazione Quello è semplice E la nuova mappa Stupenda la nuova mappa 3,90 Ragazzi la mappa vi piacerà È un po' difficile da imparare Ma vi piacerà Anche Draven vi piacerà Tantissimo Assolutamente sì Siamo nel bar E Marco e Ale Stanno litigando Per chi deve offrire il caffè A chi Adesso ragazzi Però seriamente Chi somiglia a chi Forza Vediamo chi la spunterà C'è la spunta Marco Con la scusa che domani È il suo compleanno Offre lui il caffè Io non lo voglio Ho solo tanta fame Quindi andremo a mangiare Qualcosina Prima di partire Ale e Tec Hanno il treno Tra pochissimo Io avevo una busta di Tec In mano Ora non ce l'ho più in mano Facendoci caso Penso me l'abbia Presa lui da mano Io ho staccato All'improvviso il video Perché avevo paura Di aver perso la busta di Tec E non è un prod placement Per il McDonald's Semplicemente stiamo morendo di fame Devo dire che aveva Una faccia più bella Nella schermata Soprattutto queste patatine Però vediamo Magari sono buone Avevano una bella faccia A livello di sapore Sono le 11 e mezza E ancora siamo in treno Il treno viaggia Con mezz'ora di ritardo Quindi arriveremo alle 5 del mattino Ho già montato il video Gameplay, dettagli su Armi e tutto Ovviamente devo doppiarlo Ci devo mettere la voce Ma l'ho già montata È mezzanotte e 18 minuti Siamo in macchina C'è anche qui il bel Raff autista Ecco qua Poi sai Stamattina Raff ha detto Marco ma che facciamo alle 5? Andiamo a prenderci un caffè a Milano Così Ora ritorniamo verso casa Andiamo a dormire perché è stato distruttivo Fare tutto in giornata è stato distruttivo Però è un'esperienza come al solito assurda Ragazzi ripetere i nostri amici Stare nell'ambiente Ubisoft È stato molto più familiare questa volta Siamo stati tutti insieme È stato veramente fortissimo Chiuderei questo vlog qui? È stato più breve penso Non so quanto verrà con il montaggio Ma è stato più breve Sì sì Sarà 6 minuti di video Non lo so Marco che fa pronostici a casa Noi come al solito Ci vediamo alla prossima Ciao 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 Ciao